L'Unione Europea rappresenta una formidabile opportunità, però deve essere un'Unione Europea più vicina ai cittadini, perché in questi anni si è un po' scollegata dai cittadini, per cui è importante che torni ad essere un'Unione Europea delle opportunità e non solo dei divieti. Ho intenzione di occuparmi dei temi di cui mi occupavo già in precedenza, però ovviamente qua nel Parlamento, c'è quello di cercare di estendere la normativa italiana antimafia anche negli altri paesi d'Europa, soprattutto per quel che riguarda l'articolo di associazione mafiosa e per quel che riguarda il sequestro preventivo di beni. Credo che sia una nostra priorità. Sicuramente c'è anche la questione dell'intelligenza artificiale, che è un'opportunità per il nostro paese e bisognerà fare grossi passi avanti al riguardo.